Cari amici, intanto che parliamo, intanto che voi cortesemente guardate questa piccola rubrica, da qualche parte in Italia, nel mondo, ci sono donne che vengono ammazzate, donne che vengono picchiate, donne che vengono ferite, donne che vengono rapite, donne che vengono utilizzate. Perché utilizzate, vi offendete, non è una parolaccia, è un utilizzo come di una penna, come di un coltello, come di una forchetta, cioè io utilizzo una cosa, un attrezzo. E allora da dove nasce questo gran problema della violenza sulle donne? Tanto da fare una giornata, il 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne. Ma vi rendete conto in che mondo siamo? Siamo costretti a fare una giornata contro la violenza sulle donne. È un mondo marcio, evidentemente, ed è un mondo dove non servono né altre leggi, né altre repressioni. Dove serve cambiare la testa, cambiare il cervello, cambiare la crescita all'essere umano, all'uomo. Non è pensabile che in tutto il mondo, paesi che odiano le donne, ve li faccio vedere, eccole qua, c'è una mappa, e non sono tutti, e sono approssimati per difetto. Ma ci sono ancora paesi dove il 35, il 50% delle donne non sa leggere e scrivere. Ce n'è uno da cui compriamo il petrolio, sono tanto bravi. Dove le donne non possono guidare la macchina. Vabbè, grazie, la battuta di tutti la sento. Eh, meno male, avranno sicuramente meno incidenti, certo. Ma la battuta, comunque, nasconde dietro la tristezza. Non possono guidare la macchina e, siccome qualcuna ha protestato, è stata arrestata con l'accusa di aver insultato l'Islam. E certo, qualcun altro paese con normalità vende le figlie. Ora, se da noi qualcuno c'è così stupido da farlo, se diventa un fenomeno di massa, allora è sì un problema. Allora non è un problema delle donne, è un problema di tutti noi, è un problema di esseri umani. Non siamo più, non ancora, non siamo più abituati a ragionare col cervello. E poi ci meravigliamo che succeda di tutto, ci meravigliamo dell'Isis, ci meravigliamo delle guerre, ma se siamo così imbecilli che nemmeno l'altra parte del cielo ci vogliamo tenere bene. Vergogna, vergogna. Mi dispiace che questo mondo vada così male, non perché va così male realmente, non per i suoi nemici, ma per le persone oneste, le persone serie, che non hanno il coraggio di dire basta, non ne posso più.